Si è riunito in prefettura il tavolo di monitoraggio sull'attuazione del piano di raccordo scuola-trasporti alla presenza dei rappresentanti degli studenti degli istituti secondari di secondo grado e del presidente della consulta degli studenti. Nell'occasione è stato chiarito da tutti gli attori istituzionali presenti che lo scaglionamento degli orari d'ingresso nelle scuole fino alla cessazione dello stato di emergenza resta una modalità indispensabile. Gli studenti dal canto loro hanno chiesto di implementare alcune linee, una parte ha già trovato soluzione da parte dell'AIR con l'introduzione di cinque autobus alle 15 ed il posticipo di altre due corse, mentre altre istanze sono allo studio dell'azienda per ulteriori accorgimenti da verificare. È stato condiviso che specifiche segnalazioni degli studenti su eventuali disturbi potranno essere comunicate direttamente tramite gli indirizzi mail di AIR, Sitta e Prefettura. È emersa inoltre la necessità che le aziende di trasporti mettano in campo maggiore iniziativa per divulgare i nuovi orari e le tratte. Gli studenti a loro volta sono stati invitati ad un atto di responsabilità, anche in ordine ai corretti comportamenti da osservare sugli autobus e davvalendosi di tutte le corse aggiuntive, per non vanificare gli sforzi fatti con gli incrementi. Nel caso di AIR il potenziamento è di oltre il 49% rispetto alla fase pre-covid, senza contare gli altri incrementi di sita a sud e gli ulteriori vettori interessati. Da tutti i rappresentanti studenteschi è stato evidenziato il disagio correlato alla settima ora curriculare con uscita alle 14.45. A riguardo è stata già da tempo richiesta all'ufficio scolastico provinciale una valutazione in merito al fine di consentire la conclusione delle attività didattiche entro le 14.30 e permettere ai ragazzi un rientro a casa in un orario più adeguato alle loro esigenze. Il prefetto ha aggiornato il tavolo la prossima settimana assicurando agli studenti momenti di confronto per un aggiornamento periodico.